Bentornati alle colonne d'Ercole, allora oggi parliamo della score della colonna sonora che Luigi Sakamoto ha scritto, non da solo come vedremo, nel 2015 per il film The Revenant, Re di Vivo con Leonardo DiCaprio, con la regia di Inaritu, film che se non avete visto vi consiglio assolutamente di vedere perché è un gran bel film, con una regia, una fotografia strepitose, meravigliosamente interpretato, montato, musicato eccetera eccetera. Quindi se non l'avete visto veramente andatevelo a vedere, insomma, che merita assolutamente la visione, ma oggi qui ovviamente parliamo uno specifico della colonna sonora. Chi segue le colonne d'Ercole sa che ho fatto ben due video sulle figure di Sakamoto, li trovate tra le vecchie puntate delle colonne d'Ercole e comunque alla fine del video metterò in descrizione il link per raggiungere questi due video. E' quindi un autore che io ho sempre guardato con grande interesse. Non voglio dire che sia stato in assoluto fra i miei compositori di colonna sonore preferite, ma alla fine incasellarlo solo come compositori di colonna sonore, una figura eclettica e per certi versi veramente geniale come Sakamoto, insomma, è veramente veramente riduttivo. Quindi non è possibile farlo, insomma. Teniamo poi presente che nel 2015 lui veniva da una brutta battaglia contro il tumore alla gola, che poi a anni dopo lo porterà a passare miglior vita. Ma in quella fase della sua vita sembrava che il tumore fosse stato sconfitto. E quindi lui, insomma, come dire, scrivendo la colonna sonora di questo film che si chiama appunto The Revenant, Re di Vivo, vedeva probabilmente un po' se stesso, no? Che, passato molto vicino alla morte, era comunque uscito a beffarla, anche se, insomma, solo per qualche anno, ma in quel momento, in quella fase storica, ce l'aveva fatta. E quindi, insomma, questo film per lui era particolarmente importante. Per realizzare questa colonna sonora, Sakamoto si va della collaborazione di due musicisti altrettanto eclettici, cioè Alvanotto, che è uno pseudonimo di Karsten Nicolai, e Bryce Dresner. E quindi, tra l'altro, abbiamo un giapponese, un tedesco e un americano e un regista spagnolo. Quindi, insomma, se vedete, insomma, questa grande multiculturalità, insomma, che è sempre stata molto presente nei progetti a cui ha lavorato Sakamoto, nei suoi, come dire, in quelli suoi fatti in prima persona, ma anche in quelli per cui ha lavorato, con le regie e i film che ha fatto, insomma, ha sempre avuto un respiro internazionale e soprattutto di multiculturalità, insomma, che ha sempre influenzato tantissimo tutta la sua opera. Il film, dicevo, molto bello, che porta a casa ben 12 nomination all'Oscar, ma non quello della colonna sonora. E qui c'è una piccola questione. Allora, tenete presente che fino a relativamente pochi anni fa, l'Academy intanto non consentiva la nomination di un film che avesse più di un compositore. Dopodiché questa regola è stata superata, anche perché ci sono tanti compositori, pensiamo solo a Trent Reznor e Atticus Ross, insomma, che lavorano a quattro mani da tanto tempo. E poi, comunque, molti altri compositori hanno scritto con il sonore, co-firmandole. In questo caso sono addirittura tre i compositori, ma la regola dell'Academy che impedisce la nomination non è tanto il fatto che siano in tre o in quattro o in cinquanta, quanto il fatto che non è dettagliatamente possibile capire qual è stato il contributo dei singoli tre compositori. E questa cosa, insomma, è contro le regole dell'Academy. Se quindi da un lato capisco questa posizione dell'Academy, dall'altro lato è una posizione che dà un incredibile limite alla creatività. E quindi se il scopo di un film dovrebbe essere anche il creare nuove forme espressive, nuove forme di collaborazione e nuovi modi di lavorare insieme, beh, forse anche questa regola dovrebbe essere superata. Dopodiché anch'io sono un nostalgico del caro vecchio compositore che andava da solo a prendere con la sonora che aveva scritto lui, invece che un team di persone. Però, insomma, se pensiamo solo a quello che ha fatto Hans Zimmer negli ultimi vent'anni, alle mille collaborazioni che ha fatto e alla società da cui sono usciti una generazione intera di grandi compositori, insomma, forse il lavoro congiunto può portare anche qualche buon risultato, evidentemente. Allora, Sakamoto da tempo ha superato, come dire, la necessità del tema. Nel senso, ha scritto di temi bellissimi, pensate a quello di Furio, pensate a quello del tema del deserto, temi bellissimi e assolutamente immortali. Ma ormai ha le spalle larghe, non ha bisogno di scrivere un bel tema, sa come scarnificare l'essenza di una colonna sonora e sa come arrivare al punto anche con pochi accordi. Cosa che succede in questo film? Che fondamentalmente è basato su una sequenza di due accordi in estrema sintesi. Quindi abbiamo Mi minore, e questo è un Si minore settimo in cui mi rivolto. Ancora Mi minore. Poi abbiamo Si minore settima, e settima di quarta specie su Do. Dal punto di vista musicale, quindi, è una colonna sonora ai limiti del minimalismo, minimalismo peraltro che Sakamoto ha affrontato come moltissime altre forme espressive già da tanti anni. È una colonna sonora che fa sicuramente della sonorità il punto forte, più che della musica e dell'armonia e della melodia che in realtà è praticamente inesistente. Però, come dicevo prima, è anche una posizione che può permettersi un compositore che non deve dimostrare più niente a nessuno. Cioè un compositore giovane, probabilmente, se gli avessero commissionato di fare questa colonna sonora ci avrebbe messo dentro un sacco di roba, mille percussioni, un'orchestra sterminata, per far vedere, insomma, che... Come dire, un'ostentazione della propria virilità musicale, diciamo così. Sakamoto non ne ha bisogno e sa che a lui bastano due accordi per dipingere perfettamente l'atmosfera che Inarito vuole creare con questo film. Non mancano in questa colonna sonora anche dei riferimenti all'ambient e al glitch, altri due ambiti, altri due ambiti, altri due generi, che Sakamoto aveva abbondantemente affrontato negli anni della sua giovinezza, nella fase intermedia della sua carriera. E poi c'è un uso orchestrale abbastanza tradizionale unitamente con gli strumenti etnici che, insomma, che rendono bene il rapporto sia con la natura e sia con la narrazione legata ai nativi americani. Ma alla fin fine, quello che scopriamo è che questa musica molto bella, molto adatta, incredibilmente descrittiva, come detto, non è certo protagonista, neanche quando potrebbe esserlo, perché decisione del regista, e io credo in totale accordo col compositore, è quella di lasciare in silenzio molte scene del film. Pensate anche solo a tutte le scene d'azione, di battaglia, anche, insomma, di violenza, che ci sono, insomma, un film dove il sangue scorre copioso, e quindi, insomma, un normale film di Hollywood sotto scene del genere impone, pretende, esige una musica sotto piena e full orchestral e cinematica, c'è questo aggettivo che è diventato ormai abbastanza di uso comune. Loro invece fanno una scelta di silenzio, una scelta di realismo, una scelta di credibilità, e quindi decidono tutte le scene di violenza, o comunque d'azione, di non musicarle. Anche perché la vera protagonista di questo film forse è la natura, con questi paesaggi meravigliosi che vengono visti nel film, che vale la visione solo per le inquadrature di queste foreste meravigliose, e quindi in tanti casi la voce più importante che sentiamo e la voce della natura sonora e visiva più che della musica che ci deve suggerire un qualcosa. E tente presente un altro aspetto, insomma, che è sintomo, come dire, della profondità del compositore. Non tutti i compositori hanno la capacità di fronte a una scena dove non ci sono dialoghi, dove ci sono dei paesaggi, quindi perfetta per essere musicata di fare un passo di lato e di non musicarla. Poi questa può essere stata naturalmente anche un'esigenza per la chiesa di regista, ovviamente, però vi assicuro che non tutti i compositori accetterebbero un compromesso del genere. Io credo che nell'idea che mi sono fatto io questa scelta è stata tra compositore e regista sia stato assolutamente consensuale e assolutamente facile da trovare e soprattutto il risultato è estremamente efficace. Non c'è quindi nessuna concessione, come dire, un po' ruffiana all'emotività. Quindi non ce n'è nelle scene d'azione, anche nella scena in cui lui è ferito e gli vengono cucite le ferite con l'ago e filo a crudo, diciamo così, non c'è nessun sdilinquiamento, nessuna ricerca un po' facile se vogliamo dell'effetto e nessuna emotività aggiunta rispetto a quella che già viene dalla drammaticità della scena che stiamo vedendo. E in questo senso è una colonna sonora del 2015 quindi che è già qualche annetto è una colonna sonora molto moderna che poi ha tracciato un segno e poi se voi ascoltate i film o soprattutto le serie sui vari Netflix e così via che sono state fatte dopo tante di queste colonna sonore seguono questo questo mood questo modo di trattare l'immagine abbastanza diverso da quello che veniva mi ha fatto prima non voglio idee che prima non ci sia mai stata una scelta del genere però questo è stato un film abbastanza disvolta a seguito del quale tanti giovani compositori hanno deciso di scegliere e di perseguire quella via espressiva via espressiva che io non sempre condivido non sempre mi piace però non si può dire che non sia efficace ecco questo proprio è impossibile da dire poi ci sono come detto una serie di suoni etnici soprattutto nella fase in cui lui ha i deliri o i sogni o le visioni insomma ecco questa serie di suoni etnici riportano ovviamente la cultura dei nativi americani e in questo senso questo se vogliamo ecco questo se vogliamo è l'unica ruffianeria all'interno di una con la sonora che ruffiana non è perché dico ruffianeria perché è una scelta consueta normale assolutamente da manuale qualunque manuale di musica per film vi dirà se siete in un posto utilizzate gli strumenti etnici di quel posto immediatamente richiamerà quella cultura quella storia eccetera eccetera quindi in questo senso è un po' ruffiano come scelta però la musica è sempre trattata dal punto di vista elettronico in particolare da Dresner insomma che come dire che proprio il suo corbis anche anche a noto anche al banotto naturalmente e Sakamoto insomma lo faceva già negli anni 70 quindi figuriamoci fanno nel 2015 insomma però questa parte mi è lasciata in particolare al lavoro di Dresner perfino nella scena forse più drammatica del film cioè l'uccisione del figlio del protagonista anche lì non si cede anche lì non si va alla ricerca della lacrima facile o dell'effetto o dell'emotività a tutti i costi ovviamente l'emotività c'è ce n'è tantissima ma è sufficiente quella che ci viene dal film tenete presente che molte volte ne abbiamo parlato tantissime volte nelle puntate delle colonne d'Ercole la musica deve andare a sopperire a qualche piccola magagna di recitazione o di montaggio o di regia quando una scena è girata bene recitata bene montata bene a una spenda a fotografia della musica in molti casi si può anche fare meno e questo è uno di questi casi dopodiché uno la vuole aggiungere lo può fare però diventa veramente un extra non necessario ma soprattutto non indispensabile quindi nella prima ora di film il film è lungo dura due ore e venti se non ricordo male e pensate che nella prima ora di film praticamente la musica è sempre ci accompagna nella visione del film a fianco a noi ogni tanto ci mette la mano sulla spalla ma non è mai presente non è mai invasiva solo quando il protagonista diciamo così reagisce e quindi incomincia la sua la sua lunga il suo lungo percorso della sua vendetta solo da lì la musica acquisisce un po' più di corpo e solo da lì come dice c'è un cambio nella narrazione musicale che fino a quel punto è rimasto abbastanza piatta nel senso assolutamente aderente ai punti in cui la musica è stata messa e a riprova di quanto il film si è girato bene tenete presente la fondamentale non credibilità di tutta la faccenda cioè non so se avete visto il film non voglio fare spoiler ma diciamo che lui viene aggredito da un grizzly insomma che lo concia veramente in fin di vita e poi insomma poi viene riesce a salvarsi e dopo un certo periodo di tempo riesce a a guarire e a portare a termine la sua vendetta nella realtà in una situazione del genere in un posto molto freddo con la terra eccetera eccetera uno a qualunque uomo che subisse un attacco come subisce il protagonista è destinato alla morte per la temperatura per le ferite nella migliore di posizione dovrebbe morire di setticemia e dovrebbe oltretutto avere una trentina di ossa rotte invece dopo un paio di giorni lui cammina e dopo può addirittura corre ovviamente questa cosa non è realistica però la sospensione incredulità viene in nostro soccorso e ci dice che il film è girato talmente bene che o ci crediamo al fatto che nonostante le mille ferite e le altrettante probabili fratture il protagonista riesce a fare determinati movimenti che sarebbero naturalmente e biologicamente impossibili con quel tipo di ferite ci crediamo o se non ci crediamo la reputiamo di secondaria importanza e quando succede questa cosa è la riprova del fatto che il film è girato bene perché guardate che quando siamo lì a guardare il dettaglio quindi a cercare il pelo nell'uovo è perché probabilmente qualcosa non ci ha convinto del film in generale quando invece ci sono anche cose così diciamo pure macroscopiche che però accettiamo riceviamo e ce le facciamo andare bene vuol dire che il film è girato bene è recitato bene è montato bene quindi una scelta precisa di non utilizzare l'emotività quando viene il primo momento emotivo quando il protagonista si trova a tre quarti di film con quell'indiano che gli dà da mangiare allora in questo film c'è un pessimo rapporto con gli indiani gli indiani si è sempre in lotta e ed è una lotta all'ultimo sangue insomma quindi poco poca amicizia e poca fratellanza fra i popoli decisamente però nel momento in cui si crea un legame tra lui e l'indiano e l'indiano gli dà da mangiare ecco quello è l'unico momento dove veramente l'emotività viene più fuori e quindi siamo già a tre quarti di film ormai quindi è chiaro che poi quando abbiamo fatto un uso così persimonioso delle energie e le mettiamo in campo in un punto quel punto ci colpisce non è importanza se siamo o non siamo dei tecnici se sentiamo l'accordo e mica l'accordo gli strumenti non è importanza noi siamo degli spettatori anche noi siamo degli spettatori e a un certo punto ci troviamo colpiti da una scena dopodiché da come dire a detti i lavori scopriamo che siamo arrivati colpiti da quella scena perché l'emotività è stata volutamente sacrificata e non si è voluto dal punto di vista musicale mettere come dire della ciccia musicale emotiva sul piatto fino a quel punto ma quando arriva colpisce e quindi poi c'è la scena poi loro cavalcano insieme e infatti e da lì ripeto comincia la parte emotiva che poi culmina quando lui sogna il figlio in questa sorta di un po' di visioni un po' di sogni un po' di incubi che lui ha per tutta la fase in cui è per tutta la fase del film poi insomma sono anche dei ricordi precedenti insomma si mischia il passato con le visioni con le paure insomma quindi queste scene sono sempre molto presenti all'interno del film e però se durante la prima fase della narrazione anche nel momento in cui lui ricorda cose molto drammatiche anche molto brutte del suo passato queste cose non venivano sottolineate in quina maniera qui quando lui sogna o ha la visione del figlio morto qui invece l'emotività viene tirata fuori e viene viene a galla e perfino nella scena finale della vendetta adesso non entro nel dettaglio e non voglio spoilerare niente ma perfino nella scena finale in cui sarebbe potuto sarebbe stato facile come dire entrare a gamba tesa con la musica anche lì viene fatta una scelta di assoluta sobrietà e viene considerata l'immagine come veicolo principale del messaggio del regista senza il comodo aiuto spesso la comoda stampella che la musica dà in questi casi e nonostante questo nel film c'è tanta musica la colonna sonora è lunga e c'è circa 70-80 minuti di musica quindi anche su un film molto lungo comunque tanto c'è tanta musica però sicuramente in pochi punti viene fatta una scelta che abbia a che fare con i sentimenti e che abbia a che fare con quel toccare quelle corde che poi è la ragione principale per cui i bravi compositori sono così richiesti dai grandi registi se il video vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale come fare semplicemente vedete cliccare qui se volete vedere i video di Sakamoto li trovate invece qui e noi ci vediamo alla prossima puntata dei colonne d'Ercoli grazie a tutti